La location per il matrimonio è sicuramente importante, qui siamo all'interno di questo stand, siamo all'interno di Palazzo Fiorini di Bonsangue. Sì, io sono Riccardo Bonsangue, mi presento e sono anche lo chef delle location, ho fatto il corso del gambero rosso e anche 14 puntate e mi occupo in toto dell'organizzazione dei ricevimenti presso Palazzo Fiorini. Una location stupenda che è incastonata nella scogliera di Santa Tecla da Cireale, è proprio al ridosso del mare e chi vuole venirci a trovare può tranquillamente fissare un appuntamento allo 095 876 177 e fare un preventivo da noi per vedere un po' le varie soluzioni che vogliamo offrire. Abbiamo scoperto con piacere che molti sposi di Messina scelgono questa location particolare come la vostra e quindi fanno questo bel viaggio che poi non è tantissimo per arrivare da voi ma sicuramente trovano, a parte lo chef di qualità, abbiamo detto la location, ma come li accogliete questi sposi? Questi sposi anzitutto vengono accolti con il massimo del servizio e chiaramente anche il prezzo alla fine la fa da padrone in quello che può essere una scelta così gravosa nell'organizzazione di un matrimonio. Dobbiamo dire che di fatto sulla zona di Cireale e di Catania, ma soprattutto sulla Cireale, ci sono diverse aziende che si concorrono e quindi riescono a dare veramente un servizio eccellente a dei costi contenuti e tra questi posso nominare un'altra azienda sempre nostra che è Oasis, che fa la parte da Leone con la zona di Messina che ci ha scelto e ci sceglie ogni anno e quindi ringraziamo tutta la gente che ci sceglie da questa provincia di Messina. Una domanda fatta più che al manager, allo chef, lo sposo, la sposa che vengono da voi hanno dei gusti particolari? Sono cambiati i gusti degli sposi, ho visto tutto quello che si vede in televisione oppure anche i siciliani sono rimasti un po' legati alle tradizioni? Posso dire che il legame alla tradizione è sicuramente forte nel territorio siciliano ma questa è una caratteristica degli isolani in generale. Devo dire che gli sposi più che del cibo sono interessati ai dettagli mentre quelli che sono veramente interessati al cibo sono i genitori e quando vengono insomma hanno veramente già le idee abbastanza chiare e noi riusciamo a soddisfarli sempre. Perfetto, ricordiamo dove venirvi a trovare, come venirvi a trovare? Avete anche un sito internet, una pagina Facebook? Certo, il sito internet è ovviamente www.palazzofiorini.it Ci troviamo a Santa Tecla ad Aciriale in via Argenta 40, semplicissimo.